Lunedì ho il caffè sul fuoco e ho deciso di fare una ricetta molto veloce che ho trovato sui social in questi giorni Vi faccio vedere gli ingredienti che sono tre Allora Albume d'uovo, cacao amaro Io ho usato il latte di mandorla, sui social utilizzavano acqua però secondo me diventa un pochino più saporita con il latte di mandorla Vediamo come si fa Versiamo nell'uovo il cacao Il latte di mandorla o acqua se volete utilizzare l'acqua se la preferite O latte o avena o riso o qualche volete Si mescola bene e poi dopo va sul fuoco Adesso nel mio pentolino giallo che non può mancare in queste occasioni Gli vado a versare il tutto Faccio cuocere Il pentolino giallo adesso vi metto la marca perché siete impazziti per questo meraviglioso pentolino Piccola considerazione sul dolcificante Io non ve l'ho detto ma ho messo un cucchiaio di miele Utilizzate quello che preferite Zucchero di cocco, miele, acero, agave Dolcificate in funzione del tipo di utilizzo che fate di questa mousse Quindi non esagerate Spero con tutto questo fumo di riuscire a far vedere Comunque è diventata proprio una cremina Diventa proprio una crema al cioccolato Io la utilizzerò come adesso vi farò vedere in un bicchierino con un pochino di avena Ormai giunti a termine per cui vuol dire che si mangia a breve Questa è la mia crema di cioccolato e uovo Dopo lo andrò a condire con O a finire, quel che volete Con della granola, con del polline Adesso vedo che cos'ho E poi dopo si mangia Buon lunedì Benissimo La mia colazione è pronta Guardate che bei colori Ho messo del polline e della granola Si mangia davvero con gli occhi Ora facciamo la prova del cucchiaino Andiamo a prenderla E' buona Forse ci stava anche un pochino più di miele Fate un cucchiaino e mezzo O lunedì Buona giornata